Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio di Serie C, il Pescara è atteso da un tour de force, si comincia con il Gubbio il prossimo 2 ottobre. Ma tutti gli aggiornamenti, le ultime notizie con Massimo Profeta che è qui in studio in diretta accanto a me. Buon pomeriggio Massimo e dunque le ultime sia sulla formazione e sugli impegni che attendono i Biancazzurri. Buon pomeriggio a te Giuliano e a tutti gli amici di visione dell'ascolto. Sarà un calendario ricco, impegnativo e soprattutto fitto per il Pescara in questo mese di ottobre che sta per aprirsi dal 2 ottobre come dicevi Bocazzi. Pescara-Gubbio ore 20 e 30 diretta sul Resport sino al 29 ottobre. Saranno 8 partite, 8 partite sono tantissime però dobbiamo considerare anche il recupero di campionato con il Pineto che si giocherà mercoledì 11 ottobre all'Adriatico Giovanni Cornacchia ore 20 e 45 e anche la prima di Coppa Italia. L'esordio giovedì prossimo 5 ottobre sempre all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Di fronte ci sarà la fermana con inizio alle 20 e 45. Si tratta di una gara secca ad eliminazione diretta. Subito lo scoglio. Gubbio diamo qualche notizia circa la seduta di questa mattina. Abbiamo anche scritto un articolo, vi ricordo anche il nostro sito www.reteotto.it perché sicuramente Franchini non ci sarà ma neanche per la cani. Franchini che tornerà in gruppo a partire da giovedì prossimo. giovedì prossimo perché Franchini, l'ex Padova, è arrivato proprio nella sessione estiva e ha accusato un risentimento muscolare fastidioso nell'ultima partita giocata con la Sestri Levante lo scorso 19 settembre a Carrara, sul Neuto di Carrara. E qui ha bisogno di un po' più di tempo rispetto per esempio a Pellacani che sa già meglio. Ha accusato soltanto un fastidio al ginocchio. Ha già operato Pellacani lo scorso settembre, un anno fa. E quindi diciamo che tutte e due non giocheranno, salteranno questa partita. Probabilmente Pellacani sarà a disposizione invece per la gara di Coppa Italia. Per Franchini invece se ne riparlerà probabilmente contro la Spal. Spal che è un confronto molto importante, è una sfida tra due big di questo campionato. La Spal in realtà ha cominciato molto male questo torneo. Tra l'altro ha anche perso 3-1 il recupero con il Cesena. Spal Pescara si giocherà domenica 8 ottobre con inizio alle 18.30. Per quanto riguarda proprio le ultimissime, diciamo che la difesa, in difesa c'è il dubbio, almeno così sembrerebbe. Anche perché insomma Zeman ha fatto anche parecchie sorprese nell'ultima partita. Ben 7 undicesimi, ha cambiato il tecnico Boemo. Ci sarebbe almeno il condizionale quanto mai di rigore, il dubbio tra Moruzzi e Milani. Per il resto dovrebbero giocare gli stessi, diciamo i presunti titolari, vale a dire Pierno, Brosco, Messi. Vediamo chi presiderà la fascia sinistra, se Milani oppure Moruzzi, che ha fatto bene nella gara di Carrara con il sesto di Levante. A centrocampo c'è il dubbio invece legato alle condizioni di Squizzato. Squizzato non è che stia male, è in buone condizioni, però potrebbe giocare a loi nel ruolo di play. Confermatissimo quanto sembra De Marco, classe 2004, i primi gol tra i professionisti proprio nella trasferta di Carrara col sesto di Levante, è stato un grande protagonista di quella partita al pari di Plizzari che è stato decisivo e poi dovrebbe tornare al primo minuto Tugnov in attacco, sicuro della maglia da titolare Merola a destra, anche Cuppone sarà confermato da Zeman. A sinistra invece c'è il dubbio tra Cangiano e Accornero. Queste sono le ultime, però attenzione Gigliola perché domani ci sarà ancora una doppia seduta. Poi la rifinitura domenica mattina, lunedì sera la partita con il Gubbio all'Adriatico. Giovanni Cornacchia. Grazie Massimo, qualcosa anche sui due, avevi già detto, gli allenatori più esperti a confronto, che confronto sarà? Sì, effettivamente hai ragione perché sono due tra i tecnici meno giovani, diciamo così, dell'intero panorama professionistico. Zeman ha 76 anni, Braglia ha 68, nel confronto tra i due allenatori in vantaggio Zeman, tre vittorie per il Boemo, una vittoria per Braglia e un pareggio, però Braglia sappiamo che è un allenatore molto esperto, sono due idee diverse, completamente diverse, di vedere il gioco del calcio, ma Braglia è un vincente, un vincente che aveva dimostrato nella sua carriera, ha vinto ben quattro campionati di Serie C, vorrei ricordarli nel 2003-2004 a Catanzaro, nel 2006-2007 a Pisa, nel 2010-2011 alla guida della Juve Stabia, 2017-2018 la guida del Cosenza, tra l'altro la finalissima promozione contro il Siena, giocata proprio a Pescara, 3-1 il verdetto finale.